Cara, devo dirti una cosa, sei maschilista. Ciao care, bentornate al podcast di Cara Sei Maschilista, io sono Teresa. Io sono Irene e siamo un'altra volta davanti ai nostri microfoni, nonostante la quarantena, nonostante il coronavirus. E siccome non bastasse il coronavirus c'è ancora l'allergia stagionale che mi sta uccidendo, però va bene, mi sto ammazzando di antistaminici, questa roba qua, però vabbè, siamo ancora qua, forti. Eh sì, diciamo che questa volta ci ha messo un po' alla prova, infatti siamo un po' in ritardo con questa puntata. E più che altro in questa puntata abbiamo deciso anche di, invece di seguire la nostra solita logica del programma divisi in blocchi, come tutte le volte, abbiamo deciso, no, abbiamo bisogno di qualcosa per rilassarci un attimo e riprendere il fiato. Perché non possiamo finire sempre incazzata alla fine di ogni podcast, possiamo anche divertirci un po' ogni tanto. E per te che sei una nuova ascoltatrice, volevamo solo fare un ricapo di come di solito è il nostro programma, con blocchi. Il primo blocco di solito parliamo di una polemica, di un tema principale, ok, che varia di programma a programma. Dopodiché diamo sempre dei consigli su cosa guardare, su cosa vedere, dei profili di Instagram da seguire, eccetera. E poi, per ultimo, leggiamo sempre le vostre email e rispondiamo a vostre domande o perplessità. Quindi, se volete essere partecipi, basta scrivere su cara6maschilista, chiocciolagmail.com E devo dire che è la mia parte preferita del programma, perché io vivo per queste email. Ogni volta che vedo che c'è una email nuova, sono contentissima. Quindi, ragazze, continuate a mandarcele. Continuate a seguirci anche su Instagram, siamo chiocciolacara6maschilista, su Facebook chiocciolacara6maschilista. E siamo anche su Twitter. Teresa, qual è il nostro Twitter? È CR, il numero 6, maschilista. Ah, ok. Perché non si poteva scrivere tutto, quindi siamo stati un po' creative. Ah, ok. Io non mi ricordo mai. Praticamente abbiamo deciso, siccome veramente ci piace anche sapere cosa pensate, rendervi partecipi a quello che parliamo anche fra di noi, in modo che sia una cosa di tutte quante, non solo nostra, abbiamo deciso di farvi un po' di domande sui nostri stories di Instagram, perché a tutte piacciono le liste. E quindi abbiamo fatto delle liste che sono comunque collegate a quello che parliamo solitamente nei nostri canali. Quindi faremo qualche domanda e cerchiamo di rispondere sia io che Teresa, e dopo leggeremo un po' delle risposte che avete lasciato anche voi sulla nostra pagina. E sono state veramente, veramente tante. Mi sono anche spaventata. Molto bello. Molto bella la partecipazione. Abbiamo speso un sacco di tempo a leggere poi. No, è vero. Cioè, è veramente troppo bello pensare che non siamo solo noi due qua, ognuno nel suo microfono, nella sua casa, isolate nella quarantena, ma invece veramente questa community cresce ogni volta di più. Partecipate, raccontate le vostre storie. E questo è il bello, no? Sapere che comunque quello che succede a me, succede anche a Teresa, ma succede anche a quasi tutte voi, ognuno a modo suo, ognuno racconta la propria storia, però abbiamo veramente tanto in comune. Ecco, va bene. Da dove iniziamo? Da dove partiamo? Va bene, iniziamo dalla prima domanda. Ti faccio io la domanda e vuoi iniziare a rispondere tu? Va bene. Allora, abbiamo chiesto nella pagina Instagram una frase maschilista che ti fa incazzare, però siccome noi abbiamo studiato un pochettino, noi abbiamo chiesto noi stesse tre frasi maschiliste che ci fanno incazzare. Quindi non lo so se vogliamo iniziare da quelle che ci fa più incazzare o quelle che ci fa meno incazzare. Comunque vai, parti tu, Teresa. Guarda, secondo me è un po' difficile metterle in classifica, perché mi fanno incazzare comunque. Non ho preso delle frasi molto pesanti, perché vogliamo essere più tranquille questa volta, vogliamo divertirci. Beh, la prima è sei una femminuccia, che non dicono a me, ma quando lo sento mi fa veramente incazzare, perché parte del presupposto che tutto quello che è femmina e tutto quello che è femminile è debole, è sbagliato, ha una connotazione negativa. E quindi quello mi fa veramente incazzare. Perché deve essere un'offesa essere una femmina? Perché? Eh, sì, cioè, non c'è mai una volta che dici ah, sei una femminuccia, che cosa carina. No. Esatto, sei una femminuccia, allora vuol dire che sei bravissimo. No, è sempre una cosa molto peggiorativa. Ok, vabbè, siccome scrivo queste vignette da ormai qualche anno, diciamo che ci sono un po' di frasi che mi fanno un po' incazzare, c'è una in particolare che mi manda fuori di testa le donne sono tutte pazze o le donne sono tutte esteriche o le donne sono tutte squilibrate. Cioè, se c'è una cosa che mi fa incazzare è questa, perché praticamente ci tolgono il diritto di esprimerci e ci mettono tutti quanti in quella posizione lì che se la mia espressione non è come quella che si aspettano da me è perché tutte le donne sono esteriche, tutte le donne sono squilibrate e poi quando c'è un uomo che magari è nervoso oppure succede qualcosa, lui non è un pazzo, uno squilibrato, uno sterico, semplicemente è un uomo incazzato. Questa cosa della donna esterica e pazza proprio, cioè, non lo so a te, ma a me proprio fa girare tantissimo. Sì, sì, e può essere anche una donna molto pacifica, molto calma. La volta che si incazza e alza la voce diventa pazza, esterica in automatico e quella è la roba incredibile. Ma dici, ma porco Giuda, ma sto qua zitta io da tre anni, tipo, che non dico niente, che sono pacifica, che sto ingoiando tutte le cagate che mi ditti. Una volta che esplodo perché veramente, cazzo, non ce la faccio più, sono umana, divento subito l'esterica. È come se non potessimo provare rabbia, no? come se comunque la nostra rabbia dovesse sempre essere espressa in un modo gentile, carino e dolce. Sì, 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 sì. Devi incazzarti, ma dicendo per favore, grazie, per cortesia e in toni bassi, perché se no, non va bene, no? Se no, non è elegante. Cioè, mi scusi, ma mi sono leggermente incavolata con quello che ha detto, ma va a caccare. No, no, mi fai pazzire. Va bene, andiamo alla prossima. Per favore, signore, sono troppo incazzata. La prossima, allora, per chi non ha ancora capito, non sono italiana, quindi la prima volta che ho ascoltato questa frase, che è molto italiana, che io non ho mai sentito in un'altra lingua, io mi sono spaventata, mi ha scioccata veramente. No, te lo giuro, mi ha scioccata veramente, ho detto, ma dove? che cazzo sono? Ma in che anno sono poi? La frase è auguri e figli maschi. Sì, è vero. Ma si può. No, te lo giuro, la prima volta che ho sentito sta roba, ho detto, ma non è possibile. Anche perché che cosa faranno con le figlie femmine? No, sono un fardello, no? Le figlie femmine o puliscono la cucina o non servono a un cazzo, è più o meno quello. Il figlio maschio è la dadiva divina, e la figlia femmina non serve a un cazzo. Nel 2020 in un paese del primo mondo sentirsi dire una roba così è veramente brutto. E quando l'ho detto alla gente, guarda che mi siamo un po' strana questa frase qua, non è molto normale, mi sono sentita dire, eh vabbè, si dice così, è un detto, sai, è la tradizione, eh ma è andata a cagare. questa è veramente una frase che mi ha spiazzata. Sì, perché poi c'è quando, mi ricordo una volta che avevamo postato questa frase sulla pagina e che tutti quanti a dire, ma sì, ma questa è una roba super vecchia, non si dice più, è una cosa, però non è vero, perché si dice ancora, si dice ancora. Eh, io l'ho sentita, più di una volta l'ho sentita e ti devo dire, è bruttissimo e quando una coppia si sposa vuoi augurargli la felicità per cui auguri i figli maschi. Questa è una frase che mi fa vomitare. Poi, tua? Ah, un'altra che ho sentito anche diverse volte è Conte bravo lui che ti aiuta con le cose di casa quando parla del tuo compagno, no? Cavolo, bravissimo, guarda, cioè cavolo, sparecchia pure questo. Fortunatissima. Mamma mia, c'ha due mani. No, questo mi fa troppo gerare le palle. Sì, ma ha cognizione abbastanza per pulire due piatti, madonna. Che bravo. Sì, sì, dovrei ringraziare a Dio, no? Di avere un compagno così, mamma mia, come sono fortunata. No, questa veramente mi fa troppo ingrazzare. Sì, anche a me. Perché, cioè, io mi chiedo, ma non è che sono fortunata, semplicemente non potrei mai stare con un uomo che non facesse le cose, cioè, perché semplicemente chi vive nella stessa casa o sono milionari e non se ne vogliono occupare, cioè qualcuno che lavora in casa e che si occupa di queste cose, altrimenti se tutte e due lavorano, tutte e due stanno a casa, ma perché cavolo dovrei fare io più cose dell'altro, cioè, questa cosa non sta né in cielo né terra, però, nonostante questo, nel 2020 ancora si complimentano con gli uomini che danno una mano nelle cose di casa. perché danno tutta la carica domestica alla donna, non solo della casa, ma anche dei figli, e quindi la donna non deve solo lavorare, perché diciamoci la verità, nel 2020 e nel mondo in cui viviamo, uno stipendio non è abbastanza per portare avanti una famiglia, uno stipendio normale, ok? E quindi la donna deve per forza lavorare, non è più un'opzione, sono poche le mame o papà che possono scegliere di stare a casa e quindi se tutti e due portano dei soldi in casa, tutti e due vivono nella stessa casa, tutti e due hanno fatto gli stessi bambini, allora di cosa cazzo stiamo parlando? Perché la responsabilità di uno deve essere più alta dell'altro, non esiste, non esiste, quindi se lui ha un bravo padre e lui pulisce casa, non sta facendo più della sua obbligazione, cioè quindi non si merita una medaglia di onore, il croccantino è come se dà il cane, bravo, no, bravo, bravo, cioè non sei bravo, stai facendo il minimo, ok Teresa dopo questa perla tocca un'altra volta a te, allora la prossima frase c'entra un po' con una mail che abbiamo ricevuto da un'ascoltatrice quindi parlerò della mia esperienza e poi leggerò un pezzettino della sua mail che è veramente grossa quindi parlerò solo di quello perché secondo me è molto interessante la frase è le donne sono le peggiori nemiche delle donne e secondo me è una cazzata assurda e passo la parola alla nostra ascoltatrice che ha fatto una frase molto interessante che dice i maschi ci stuprano, ammazzano, ci tengono segregate, ci costringono a vestiti umilianti, non ci fanno studiare, non ci fanno lavorare, ci costringono ad avere figli non voluti ma hey una donna che ha detto che le donne sono tutte troie non c'è cosa peggiore se i maschi dicono la stessa frase poi è solo una battuta e dobbiamo riderci sopra altrimenti non abbiamo senso dell'umorismo quindi ha detto tutto no è vero no è vero è super sì infatti non avevo mai fatto questo paragone però è vero anche perché lì c'entra anche quel fatto di come se noi trovassimo sempre una scusa i comportamenti scorretti degli uomini no sì 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 e quando si tratta della donna siamo sempre mega rigide e chiediamo la perfezione sì facciamo molto più giudizio su noi stesse sì è vero va bene ci sono punti nel suo paragrafo che sicuramente c'è da discutere nel senso che verranno a scrivere mille cose nei commenti come sappiamo già perché ci sono delle guerriere sempre nei commenti che proteggono sempre gli uomini e va bene anche perché non stiamo facendo guerra contro gli uomini ma contro il patriarcato che è molto diverso ma solo il fatto di esistere il femminicidio cioè che noi moriamo nella mano di uomini solo per il fatto di essere donna quello è già la cosa peggiore che c'è quindi non puoi dire che una donna è la peggiore nemica delle donne mentre noi moriamo nelle mani degli uomini ogni giorno e quindi quello mi fa veramente incazzare perché cazzo non possiamo continuare a dividerci dobbiamo unirci io so che ogni volta comunque che viene fatto questo commento la giustificazione è sempre quella di dire ok però se noi fra di noi non siamo unite però solitamente chi dice una frase del genere già parte del presupposto che non siamo uniti che non potremo mai essere no quindi solitamente c'è quelle che dicono eh no però le donne sono invidiose le donne sono le peggiori sei tu la prima che stai dicendo questo amica quindi magari sì anche partiamo da noi no ad ogni ad ogni volte che cioè vabbè questo è veramente è un argomento che secondo me toccheriamo così tante volte nei nostri podcast perché per me è uno dei punti essenziali cioè smettere veramente di considerarci nemiche e di continuare a parlare di questo in questo modo secondo me la cosa principale che io voglio con questo progetto di podcast parlando con le ragazze è che loro imparino a chiedersi perché a questionare proprio lo status quo ah le donne sono le peggiori nemiche delle donne pensi così perché perché pensi così perché ci giudichiamo tanto una alle altre sì ma perché da dove viene questa cosa viene dal patriarcato che ci mette una contro l'altra dal patriarcato che ci dice che dobbiamo essere sempre perfetta dal patriarcato che ci dice che ci sono pochi posti al sole per noi e quindi dobbiamo per forza essere nemiche una delle altre quindi è quello il punto continuare a dire che siamo nemiche non ci porterà da nessuna parte ma da nessuna parte no è vero e quindi è veramente una frase che mi fa incazzare seriamente perché è un blocco per il progresso dei nostri diritti e della nostra libertà eh sì è difficile va bene facciamo una cosa più light va bene manca la mia ultima frase i commenti delle ascoltatrici va bene la ultima è anche molto brutta sempre cose positive ma va bene quando sentiamo che va bene c'è una donna in una posizione di rilievo una posizione di successo eccetera e arriva sempre l'idiota di turno che dice ma sì ma chi l'avrà data per arrivare lì no questa frase per me ha due problemi gravissimi uno questionare la vita sessuale di questa donna diciamo così no chi se ne frega con chi sarà andata a letto e due e quindi quella più grave è proprio quella di minimizzare le capacità delle donne cioè che una donna per arrivare in una posizione di rilievo non potrebbe mai essere arrivata con il proprio merito con le proprie capacità ma sì perché ha concesso l'unica cosa di valore che ha il suo corpo sessuale il terzo punto che stavo per dire che è il rendere il sesso femminile come un prodotto quindi lei ha un prodotto da vendere che è il suo sesso da scambiare da scambiare per il suo posto esatto e che ci riduce sempre a un oggetto comunque ci sono altre frasi che ci sono arrivate sulla pagina e quindi inizierei a leggere qualcuna vai una delle ascoltatrici dice le donne invecchiano come fiori gli uomini maturano come il vino sa che io non avevo io non avevo mai sentito la frase così completa però veramente descrive quello che la società pensa che le donne quando invecchiano sono da scartare invece gli uomini diventano affascinanti sì sì noi abbiamo una data di scadenza la donna vecchia fa cagliare l'uomo vecchio ha un fascino ha un fascino sì perché è più saggio invece le donne siccome torniamo sempre lì il corpo della donna è l'unica cosa l'unica merce di scambio quindi c'è ormai vecchio che cazzo hai da offrire esatto è l'unica cosa importante quindi anche se invecchiamo e diventiamo anche noi più sagge perché non è che diventiamo stupide con l'età non diventiamo più stupide diventiamo più intelligente con più consapevolezza del mondo e tutto quanto ma quello non serve a un cazzo no? perché la donna serve solo il corpo siamo solo un involucro un oggetto e quindi col tempo tutti gli oggetti vengono a scadere no? bella frase questa poi c'è un'altra anche che quante volte hai anche ascoltato questa ma sì è maschio è fatto così cosa vuoi? quando un uomo ha fatto qualsiasi cosa puoi riempire diciamo la risposta con qualsiasi cazzata che aveva fatto un uomo ma sì è maschio è fatto così loro sono scusati anche nella loro debolezza anche nei loro stereotipi deboli sono più immaturi non viene visto come una cosa assolutamente negativa viene visto come una cosa da cocolare poverini maturano dopo non sanno cosa stanno dicendo è solo un bambino a 30 anni ha fatto una cagata assurda ma è ancora un ragazzino e poi c'è nel senso quando invece è che ne so è violento oppure molesta una persona è perché sono stati gli istinti maschili che non è potuto fermarsi invece quando si comporta da idiota è perché è un ragazzino e i ragazzi sono così è maturo dai come se ci fosse tipo un tasto nel cervello dell'uomo che passa da essere cosciente intelligente da un momento all'altro diventa un animale completamente istintivo e poi c'è la scusa del testosterone perché l'uomo ha più testosterone ma è una cagata spazzesca poi c'è anche quella così i maschi sono più simpatici delle donne per questo mi ci trovo meglio per questo gli amici uomini questa è una cosa che abbiamo già discusso anche nelle altre puntate come mai gli uomini si sentono più al loro agio per fare battute per essere più stroversi per essere più gioiosi perché? no poi nel senso io conosco tante donne simpaticissime migliaia di donne simpaticissime quindi è un pregiudizio e basta secondo me ci sono più donne timide ma perché veniamo giudicate anche se siamo stroverse se siamo più aperte o diventiamo il maschietto di turno veniamo detto eh ma tanto lei sai è un maschietto quindi fa niente ok o veniamo viste tante volte anche come la facile secondo me ho visto una volta un'intervista con una donna che fa il comico e a parte dire che è una merda la loro industria perché non vengono viste come divertenti non sono divertenti non fanno ridere le donne abbiamo già detto esatto abbiamo già detto questo era il podcast ma diceva anche che essere la persona ostroversa quella che fa le battute che di solito è una cosa che è ben vista che se sei un uomo lei come donna era vista solo come l'amica ma non come una donna da stare insieme quindi secondo me quella è una roba che ci ferma tante noi che dobbiamo essere dentro a un certo stereotipo per essere anche attrattive agli uomini no? sì o è troppo complesso secondo me sì ho fatto fatica un po' a capire lei diceva io sono sempre stata divertente ho fatto sempre tutti ridere però nessuno voleva stare con me perché io non ero il tipo di donna che gli uomini volevano stare insieme perché si sentivano un po' intimiditi eh magari anche perché usava dell'ironia comunque la comicità c'entra anche con l'ironia in prendere in giro e questo magari rende anche gli uomini inseguri in qualche modo perché non hanno il controllo della situazione cioè chi è molto brava con l'umorismo è anche in grado di essere ironica e quindi non di assecondare no? l'umorismo non asseconda comunque in realtà nel mio parere gli uomini si sentono intimiditi per qualsiasi altro stereotipo di donna che non sia la donna che sta muta sottomessa qualsiasi altra cosa rischi di intimidire gli uomini secondo me dipende meno male che ci sono anche degli uomini da salvare perché sennò sì meno male vabbè io passerei alla seconda domanda perché sennò veramente siamo qua fino a perché di frasi maschiliste ci sono veramente una marea allora noi abbiamo fatto la seconda domanda che è raccontaci una storia che non hai fatto caso al momento ma che adesso ti sembra assurdamente maschilista quindi qualcosa che ti sia successo magari quando eri adolescenti quando eri bambina che all'epoca senza questo sguardo femminista hai trovato normale oppure non hai fatto caso però adesso guardando da lontano dici mamma mia come è stato possibile io ho scelto due storie non so se vuoi iniziare tu a raccontare la tua no ho iniziato io l'altro vai tu ok all'epoca quando è successo abbiamo fatto delle risate sembrato molto carino no molto carino no però non abbiamo presa malissimo praticamente nel mio primo posto di lavoro lavoravo in un'azienda abbastanza grossa con tanti dipendenti e gli uomini i colleghi di lavoro hanno fatto una competizione fra di loro e hanno eletto la donna perfetta però com'era questa donna perfetta praticamente hanno scelto fra tutte le colleghe chi aveva il culo più bello chi aveva la miglior tetta chi aveva chi aveva i migliori capelli il viso più bello i denti più belli e quindi praticamente hanno fatto una specie di bacheca e hanno messo per ogni cosa il nome della collega che rappresentava la cosa migliore per montare la loro donna perfetta e tutti quanti ridevano e questo è stato messo appiccicato nella mensa aziendale tutto è considerato normalissimo ovviamente stiamo parlando meno male di tanti anni fa più di dieci anni non dare indizi della tua età dai amica per favore eh sì perché sai le donne quando invecchiano diventano fiori morti quindi esatto non puoi dirlo infatti certo comunque molto tempo fa nonostante questo ero comunque è già una donna adulta e guardando adesso io penso se una roba del genere succedesse oggi cioè sarebbe uno scandalo almeno almeno per me sarebbe uno scandalo non lo so è una storia assurda eh sì io non sono sicura dice di no che sarebbe uno scandalo dipendendo dal posto secondo me potrebbe ancora far ridere ahi ahi va bene allora faccio così leggo anche una cosa che ha scritto una ascoltatrice rispondendo a questa domanda vai allora lei dice da bambina praticavo un corso di box e un giorno la mia maestra mi sentiva mentre ne parlavo con i miei compagni lungo la strada per la mensa della scuola mi rimasi così sconvolta e disgustata che lo ripete ad alta voce con ribrezzo una ragazza che fa box fa box questa ragazzina e fermò altri maestri in corridoio per raccontare a tutte cosa fa questa sua allieva disgraziata è così assurdo che ancora non capisco se stesse scherzando peccato però che io piansi e lei continuò imperterrita ad urlare che era inaccettabile e per questo che mi arrabbio più per le donne maschiliste perché veramente non sanno quanto ci possono ferire eh che bella storia il fatto è che effettivamente sono cose che ci succedono quando siamo piccole e non ci facciamo caso e che non possiamo nemmeno lotare è anche perché se sei una ragazzina piccola fai fatica anche ad andare contro delle figure che comunque sono più autorevoli di te sono più mature di te e quindi in qualche modo tu ti senti la disadattata non hai ancora la forza di reagire io spero almeno che le nuove generazioni le ragazze più giovani oggi siano un po' più consapevoli siano più forti perché anche io mi ricordo di battute di cose del genere di quando ero piccolo e che alla fine è una subiva e basta cioè non è che per quello che dico sempre che la mamma femminista è importante perché devono preparare questi bambini a questi momenti e devono essere preparati a difenderli in questi momenti se è la mia figlia che torna a casa da scuola dicendo guarda che mi hanno fatto sta roba perché io voglio fare box piuttosto che minchia io porto giù la scuola ma non esiste capito non tutte le mamme sono preparate probabilmente tante mamme hanno il sogno della bambina che fa il ballet ancora e se la bambina fa box non è che dice di no non farà i box ma si sente leggermente delusa forse sì sì i nonno supportano le proprie scelte sì sì può darsi credo che ancora ci siano ovvio che ci sono non è può darsi sappiamo che ci sono no cioè che vogliono prendere in giro qua è ovvio che ci sono sì e quindi per quello che è importante avere delle mamme che capiscono queste cose avere dei papà che capiscono queste cose per tutelare questi bambini in queste situazioni sì anche per crescere le nuove generazioni che non accettino questo e che non interiorizzano queste cose no perché magari tu ascolti questa cosa da piccola una, due, tre, quattro cinque volte e dopo hai questa cosa così interiorizzata che passi veramente la vita pensando che tu sei sbagliata perché hai una passione diversa da quello che si aspetta da te sì no è molto proprio censurare la libertà da quando da quando sei piccoli leggo un'altra che risponde questa domanda allora quando ero più piccola avevo circa 19 anni ero in giro con il mio fidanzato dell'epoca abbiamo incontrato un mio compagno del liceo che quando mi ha vista mi ha preso in giro per scherzare su qualcosa di molto stupido dopo si è reso conto che c'era il mio fidanzato e ha chiesto scusa al mio fidanzato per come aveva scherzato con me non è chiesto scusa a me ma a lui come se fosse a lui che aveva fatto un torto e diciamo questa persona ad oggi percepisce che comunque è una cosa maschilista però veramente questa è un'abitudine bruttissima si si cosa fai poi mi ha fatto ricordare adesso al momento di una cosa che è successa a me quando io era adolescente e non capivo un cazzo ovviamente di quando andavo in disco e non volevo stare con un ragazzo io dicevo scusa ma io ho un fidanzato è perché non puoi semplicemente dire non ho voglia esatto non posso dire no non ho voglia perché lui non capirà perché alla fine gli uomini rispettano solo gli uomini non rispettano noi quindi lui sente un mio no e continua a chiedere ma se dico che ho un fidanzato allora va bene allora io non sto con una di un altro no sì questo qua si ferma praticamente per un ipotetico uomo che non esiste ma non si ferma con la tua parapola no è assurdo è così e lo facevo e adesso vedo quanto è stupido ma ancora purtroppo efficace sì è la stessa cosa anche quando uno fa una battuta cioè uno ci prova eccetera e poi arriva il tuo ragazzo e dice oh scusa non volevo fare niente cioè nel senso non è che è il mio padrone che deve chiedere scusa a lui esatto nel caso della ragazza questo qua il collega l'ha vista come proprietà di questo uomo ma proprietà non come un individuo quindi non ha chiesto di scusa a lei ma ha chiesto di scusa a lui ma c'è oh veramente io ogni tanto penso proprio giù da 2020 dovevamo discuterne che cavolo ne so la colonizzazione di Marte il primo clone umano e stiamo ancora parlando di queste cose è veramente stancante ebbene allora facciamo una domanda un po' più carina perché così ci riprendiamo un po' e ci tiriamo su di morale perché qua inizio un'altra volta ad entrare nella depressione sono due certezze in questo podcast per me un ridere due incazzarmi sempre poi iniziamo sempre ah no perché c'è la quarantena e quindi tiriamoci su di morale no dopo dieci minuti stiamo già piangendo dicendo no sto patriarcato di merda ma sto bevendo vino ancora quindi vabbè un po' di sostegno al morale certo stancante combattere il patriarcato senza vino non ce la si può fare quali sono le tre cose che ti farebbero più felici con la fine del patriarcato e qua ci sta pure la canzoncina dai tipo per esempio cosa ti farebbe più felice con la fine della quarantena sono due cose impossibili praticamente da succedere però fateci sognare allora la prima cosa e secondo me prende un sacco di altre cose è non guardare mai più verso il basso nella presenza di un uomo mamma mia cioè mi hai fatto venire la pelle d'occa e lo faccio ancora è veramente automatico ovviamente non con persone che conosco non è che col mio ragazzo guardo il verso il basso in sottomissione no sto dicendo proprio in giro quando vado in giro e incrocio lo sguardo io automaticamente guardo in giù perché ho paura e quella sarebbe la cosa più importante per me non dover più farlo sai che tante risposte che ci sono arrivate sicuramente quella che si è ripetuta più e più volte è stata uscire camminare per strada senza paura tornare a casa senza paura camminare tranquilla non dover preoccuparmi mentre cammino non guardare verso le mie spalle mentre cammino ma tante tante e forse veramente solo noi donne riusciamo a capire che cosa vuol dire questo cioè perché e poi lo facciamo veramente in un modo così automatico che magari veramente non riusciamo più ad immaginare come sarebbe non farlo perché è veramente automatico cioè quando stai che ne so tornando a casa una certa ora ma neanche tardissimo una strada un po' vuota vedi un uomo dall'altra parte della strada cosa fai attraversi e quello è importante dire ovviamente anche un'altra puntata con più dettagli ma che tutti gli uomini sono potenziali stupratori non perché tutti gli uomini stuperebbero una donna ma perché quando siamo per strada e vediamo un uomo e lo sguardo si incrocia ci viene la paura in automatico se non vogliamo niente con quel ragazzo proviamo a veramente attraversare la strada perché non possiamo dare il beneficio del dubbio a uno sconosciuto lui può essere anche vestito nel modo più elegante e bello possibile con un'armani addosso non me ne frega un cazzo se io mi sento minacciata cioè è automatica questa cosa è quasi istintiva ed è molto brutta perché un uomo quando va in giro per strada il massimo che può succedere è essere rubato cioè io posso essere violentata una cosa che gli uomini hanno paura quando vanno in carcere gli uomini hanno paura di essere violentati noi abbiamo la paura di essere violentati ogni giorno e quello ci restringe anche la nostra libertà perché io non mi sento libera di andare in giro di tornare da una disco da sola di notte perché sono a rischio è vero ragazzi io sono stata pedinata ma un sacco di volte a Milano sai quante volte ma tante volte ho chiamato il mio fidanzato ho chiamato amici per aiutarmi sì oppure quella cosa che tu chiami fai finta di chiamare se non hai nessuno per chiamare oppure entri in un bar o entri in una farmacia o qualsiasi posto aperto io ho visto una vabbè non vogliamo allungarci però secondo me è una cosa interessante ho visto un post forse su BuzzFeed qualche tempo fa delle ragazze che dicevano delle strategie che avevano loro in testa per queste cose tu hai mai fatto di prendere le chiavi di casa e farli come se fossi un'arma ma esiste una cosa del genere ma l'ho fatta mille volte ma chiedi se un ragazzo l'ha mai fatto no no magari non sa neanche di che cosa si tratta esatto chiedi se un ragazzo si è mai sentito minacciato da uno sguardo di una donna queste dovrebbero essere le domande carine è troppo profondo è tristissimo quella sarebbe la cosa numero uno per me non dover mai più abbassare il mio sguardo perché ogni volta che lo faccio mi sento una merda ma sai che io non ho mai fatto caso se faccio questo probabilmente lo faccio e non me ne sono mai accorta va bene io invece ho scritto una cosa molto carina dato che l'obiettivo era essere felice in questa domanda cosa vuoi con la fine del patriarcato che cazzo ne so una fontana di vino no allora per me secondo me la cosa che mi farebbe più felice sarebbe vedere più amicizie fra le donne e vedere messi in alto della forza che questo potrebbe avere nel mondo perché io veramente credo fortemente che l'amicizia fra le donne e secondo me chi la sperimenta davvero capisce la forza che ha questa cosa e quindi quello mi piacerebbe vedere cioè che le donne si aprissero mi è capitato alcune volte in alcune mie amiche che prima facevano fatica a fare amicizia con le donne sempre per il solito motivo eccetera eccetera e dopo che sono cadute questi stereotipi se ne sono rese conto che veramente si possono avere delle amicizie bellissime e siamo una lì per l'altra per come si dice proprio per alzare una l'altra per portare tutte quante su insieme è molto bello secondo me la fine del patriarcato potrebbe avere un grande contributo perché questo succedesse grazie ho finito sicuramente sicuramente hai altra? sì allora la mia altra frase è sentirmi più rassicurata al livello di carriera sapendo che posso arrivarci anch'io se lavoro e non dipendere su questa meritocrazia che è super finta cavolo se è finta sì perché la meritocrazia dice se tu ci lavori tanto se tu ci metti lo sforzo puoi arrivarci ovunque però non è vero perché non partiamo tutti dello stesso punto di partenza e questo ovviamente non si limita solo al femminismo ma va anche al razzismo va anche all'omofobia un sacco di problematiche del genere però parlando ovviamente di quello che è nostro che è il femminismo noi non partiamo dallo stesso punto degli uomini le nostre posizioni sono più limitate e il nostro accesso è più limitato ancora purtroppo stiamo parlando di 2020 in cui ci sono paesi che le donne non hanno nemmeno il diritto all'eredità noi vediamo noi vediamo sempre le cose da un punto di vista del nostro piccolo mondo che sicuramente siamo a tanti step avanti di tante altre donne e alcune step indietro di tante altre donne perché sappiamo che ci sono paesi molto più avanti nell'uguaglianza tra i sessi nel mondo piuttosto che l'Italia però veramente questa cosa della meritocrazia vorrei avere lo stesso spazio le stesse opportunità e poi gareggiamo gareggiamo tutti uomini donne per quel posto lì ma dammi le stesse possibilità non posso iniziare cazzo dieci passi indietro e aspettarmi di arrivare nello stesso nello stesso anche perché lo sforzo comunque per arrivarci per poter superare questi ostacoli ti tolgono anche le energie per diventare la migliore specificamente nel tuo lavoro cioè si spende energia per dover comportarsi in un certo modo lavoro per usare certe tecniche che ti permettono di essere accettate nonostante la tua competenza e tutte queste energie che utilizziamo perché siamo donne quindi ci servono questi sotterfugi e ci tolgono energia anche a diventare migliori in quello che facciamo la mia prossima e io sarei felice perché ci sarebbe magari no perché ci sarebbe ancora il capitalismo però vabbè la fine della pressione estetica così concentrata sulle donne secondo me con la caduta del patriarcato potremmo pensare la fine della pressione estetica che credo che sia una cosa che veramente ci faccia un male pazzesco in tutti i livelli che possiamo immaginare di spendere energia veramente per farci belle ma anche proprio il fatto di dover mettere questa come uno degli standard che dobbiamo riempire fra tutte le altre nella società e che sono quasi un'esclusività delle donne se non esclusivo delle donne però diciamo moltiplicato all'ennesima potenza per noi questo mi renderebbe molto felice dobbiamo chiederci forse perché quasi tutto quello che è naturale nel nostro corpo e nel corpo degli uomini è visto come un difetto nostro ma non un difetto loro non sto dicendo che non dobbiamo farci belle per sentirci belle perché quello ci dà confidenza perché anche gli uomini alcuni si fanno belli e ci tengono all'apparenza e quello va bene però perché trovano così tanti difetti nel corpo femminile che non può essere naturale in nessun modo mentre quello maschile può eh diciamo che questa cosa secondo me cambierà in tanti punti anche perché poi c'è quella cosa ma sì cioè io mi trucco per me stessa sia adesso che sei da sola casa ti stai truccando per te stessa veramente cioè nel senso il quanto veramente lo facciamo per noi o il quanto arriva dall'esterno e di questa pressione che se dobbiamo farci vedere non possiamo farci vedere con la nostra pelle la nostra faccia così com'è e tutti gli uomini li vediamo con la loro brutta faccia tutte le volte con coronavirus ci sto provando perché non mi trucco da tipo due mesi però è bellissimo insomma ci sono tante domande che ci stiamo facendo che secondo me stanno venendo fuori anche questo isolamento forzato diciamo così eh sì mi sto domandando un sacco di cose però vabbè questa è un'altra roba cosa dicono le nostre super ascoltatrici allora faccio qualche esempio che le ragazze hanno lasciato sulla pagina instagram un'ascoltatrice dice non essere più considerata sottilmente una persona di serie B che secondo me questo sottilmente dice molto di come si vivono le cose oggi proprio il fatto che non possiamo neanche dire ad alta voce che ci sono i problemi che ci sono le discriminazioni perché c'è sempre qualcuno che arriva e ci dice ma no ma avete tutto cioè ormai c'è la parità voi siete vittime sì sì quando invece sappiamo che nella pratica non è proprio così no? eh no ecco come se ci avessero dati due diritti di merda e ah prendi questo contentino qua adesso state zitte non potete chiedere più un cazzo perché potete votare avete diritto all'eredità potete pure abortire guarda come siamo bravi adesso state zitte vai mi sono ragrabbiata un attimo sì un'altra dice questa secondo me è anche molto carina poter fare alcune cose in cui sono brava ma per cui vengo criticata sempre che è anche molto legato al punto che hai detto tu però proprio questa cosa che in certe cose non importa quanto una donna sia brava verrà sempre criticata per altre cose che non riguardano il motivo per il quale è brava cioè una donna è brava è una brava politica no? è lì che parla che ha le sue idee che concretizza delle cose però c'è sempre qualcuno che la critica per altre cose oppure come vestita oppure come parla oppure perché si incazza troppo oppure perché insomma sì è sempre la stessa ascoltatrice che ci ha dato la frase che ho letto lei dice nella stessa email se sei brava non sei una femmina sei un maschio e lei spiega perché lei ha fatto l'università di informatica una programmatrice ha fatto queste cose qui e dice che dicevano sempre le ragazze non sanno programmare e lei diceva ma è quella tizia lì che era una brava lo dice eh vabbè lei non è una femmina è un maschio perché la tipa tipo si vestiva con le t-shirt di metal band queste cose qui ma sì ma che c'entra appunto ma chi me lo chiede a me no vabbè è terribile o sei una merda sei donna o se sei donna ma sei brava vieni categorizzata come maschietto capito è così è veramente guarda odioso sì dover sostenere il patriarcato e la quarantena insieme sta diventando troppo stancante io mi voglio fermare qui basta io vado via è troppo facile comunque c'è un'altra ascoltatrice che dice che li farebbe molto felice con la fine del patriarcato finalmente la libertà sessuale delle donne e qua sono completamente d'accordo credo che veramente stiamo qua vicini all'utopia però però credo che sarebbe una bella cosa no sì sarebbe veramente bello perché oggi purtroppo se tu sei repressa soffri da una parte se tu sei libera e ti scopri chi vuoi sei giudicata quindi non c'è un modo di vincere in questo in questo senso io sto dalla parte di scopri chi vuoi perché almeno almeno ti diverti no almeno ti diverti io sono da questa parte qua ma so che è una sofferenza per entrambi i lati purtroppo perché poi a volte non ti va e comunque devi essere trattata di merda quindi non va bene cioè non è che a tutte piace poi io come ultimo punto per questa domanda ho messo una cosa che ci tengo tanto e che anche c'era molto con un altro punto che tu hai già parlato vedere bambini crescendo liberi di stereotipi e perché ci tengo questa cosa perché non è successa a me nella mia infanzia e principalmente negli anni in cui sono cresciuta era molto difficile che succedesse e quindi è una cosa che ci tengo tantissimo perché mi piacerebbe vedere i bimbi che crescono liberi di essere quello che vogliono cioè di esprimersi d'accordo con le proprie personalità con i propri gusti senza la pressione esterna senza tutti quanti intorno al bambino che dice ah no fare questo da femminuccia senza crescere con la bambina chiudi le gambe comportati da signorina ma semplicemente crescere i bambini non so per il rispetto agli altri magari c'è un punto che potrebbe essere utilizzato nell'educazione dei bambini eh sì liberi se un bambino piace fare ballè e se una bambina piace fare box va bene sono bambini devono giocare devono scoprirsi gli stereotipi sono costruiti della società non sono biologicamente comprovati e fanno parte del nostro DNA quindi sta a noi a domandare a questionare lo status quo e capire che certe cose non vanno bene non è la risposta che è la peggiore di tutti è ah perché questa cosa è così ah perché è così che è sempre stata così no perché è sempre stata così allora non vuol dire che sia giusto quante tradizioni sono esistite nel mondo e che sono cadute per terra perché erano sbagliate erano moralmente condannabili e quindi sta sempre a noi a questionare se il nostro modo di vivere è giusto o no non dobbiamo accettare tutto solo perché la maggior parte delle persone fa così o perché è socialmente accetto far così cioè non esiste proprio dobbiamo essere pensanti cazzo sì sì no ma infatti guarda secondo me i valori sono altri quando ci sono quei discorsi tradizionalisti che dicono ah no questo è una roba da bimba questo è una roba da bimbo altrimenti vai contro i valori sacri della famiglia che cavolo ne so che discorsi fanno questi però io credo che i valori siano altri sia rispetto verso le altre persone sia boh onestà essere sinceri altri per me almeno non fare male alle altre persone semplicemente e poi i gusti personali veramente perché io devo stare a preoccuparmi dei gusti personali di un'altra persona vabbè niente questo era sempre molto felici contenti ci stiamo provando veramente ma non ce la facciamo perché non ci va bene una no dai adesso secondo me sì proviamoci con questa ultima domanda allora noi ci siamo chieste tre donne che ci piacerebbe chiamare nel nostro podcast per partecipare ad una puntata siamo andate un po' lontane non è che abbiamo fatto degli esempi molto possibili perché il tema oggi è distopia sì io sono andato ottrissimo sì sì ottrissimo dato che il tema è un tema distopico che non ci arriveremo mai abbiamo anche provato in questa terza domanda esatto dai parti tu Teresa sono curiosa io in realtà ho fatto quattro se mi permetti se non mi permetti faccio tre no fai quattro perché io non sono riuscita a fare troppi allora va bene allora prima la Emma Watson sono una super fangirl e tranne essere la strega più ubbiliante della sua generazione è diventata l'attivista per il diritto delle donne all'ONU sì e quindi io sono innamorata di questa donna mi piace un sacco e sarebbe veramente bellissimo poter intervistarla un giorno e che domande che domande le faresti eh no dai sei con te cose che cazzo dici eh improvvisazione si chiama io gli avrei detto ma come è stato bello essere il ruolo più richiesto e più bello di tutte le bambine millennial questo è vero no sto scherzando no secondo me lei a undici anni ha fatto questo ruolo di Hermione Granger che è un un ruolo femminile molto molto forte lei era la più intelligente senza di lei Harry Potter sarebbe morto nel primo libro del primo proprio e quindi secondo me lei come bambina ha avuto un'esperienza molto diversa da tutte noi e quello si vede anche nel suo discorso perché a lei è stato affidato un ruolo di una donna molto forte e di una donna che non ha mai fatto un passo indietro nelle sue decisioni nei suoi ideali no lei è stata un'attivista per i diritti degli elfi domestici è proprio una di noi è una di noi degli elfi domestici guarda non è molto della tua generazione lascia stare dai va a cagare è perché non mi piacevano i libri di Harry Potter io invece sono cresciuta non sono così tanto più vecchia di te io sono cresciuta con i libri di Harry Potter noi gli affidomessi praticamente sono schiavi e lei ha capito che sono schiavi e ha detto ma che cazzo state facendo che questi sono schiavi non hanno diritti di un cazzo e tutto quanto e quindi lei è diventata attivista il personaggio è diventato attivista per il diritto degli elfi quindi lei è proprio una di noi capito e ha una bambina che è cresciuta che carina è una bambina che è cresciuta con questa idea e quindi oggi è ambasciatrice dell'ONU per i diritti delle donne e si capisce e si capisce quindi sarebbe per me sarebbe un sogno vai tu io veramente sono riuscita a pensare ad una persona e basta e andrò in castigo brava meno male era idea tua meno male questa idea tua comunque vabbè forte io inviterei la mia nonna però la mia nonna non c'è più da qualche anno comunque mi piacerebbe invitare la mia nonna al nostro podcast non perché fossi una femminista o perché capissi molto dei diritti delle donne e non non si è mai informata di queste cose non ho mai avuto gli strumenti per farlo però mi piacerebbe chiamarla per intervistarla nel nostro podcast giustamente per conoscerla perché non lo so se vi siete mai chieste però abbiamo questa figura della nonna e tante volte anche della mamma come se fossero delle figure lì lei è la nonna cioè non è stata una donna non ha avuto un'infanzo un'adolescenza non ha non si è innamorata non ha sofferto non ha passato per delle cose cioè vediamo le mamme le donne come delle figure ferme in quel ruolo in qualche modo io una cosa che io ci ho pensato molto quando è venuta a mancare che veramente io ho passato la mia vita a vederla come la figura della nonna appunto cioè se lei ci raccontava le sue storie che ci facevano ridere o cioè delle storie cioè che un po' erano le sue diciamo le sue favolette le sue cose però io non mentre ho convistuto con lei io non sono mai riuscita a vedere la mia nonna come una donna e adesso che ho un podcast la vorrei invitare meno male che adesso non sono da sola a casa perché sennò avrei paura che veramente arriva se sedessi con me in questo momento però non è è solo modo di dire ok ti immagini comunque basta questa era la mia invitata guarda dalle storie che mi hai raccontato della tua nonna veramente anche io vorrei intervistarla perché era una donna fantastica sarebbe bene fare uno speciale nonna perché tra la mia e tra la tua ci sono storie da raccontare fino a domani magari chiediamo anche l'ascoltatrice di mandarci delle storie delle nonne sì perché le nonne sono un tesoro quindi sappiamo tutte va bene allora la mia lista per chi non ha ancora capito è un po' nerd e quindi la secco da persona anche la mia seconda persona non c'è più e sarebbe la Carrie Fisher che è la principessa Leila di Star Wars era una donna fantastica e c'è un aneddoto suo che è venuto fuori se non sbaglio anche dopo la sua morte di un'amica raccontato quello che ha fatto e che è fantastico praticamente lei ha dato a un produttore di Hollywood una lingua di vacca dentro una scatola di Tiffany dopo lui aver assediato una sua amica con il seguente messaggio scritto se la toccherai ancora o qualsiasi altra donna la prossima consegna sarà una cosa tua in una scatola molto più piccola e quello tipo degli anni settanta non sto dicendo ieri questa donna è una visionaria capito incredibile guerrierissima del femminismo la vorrei intervistare a parte che tutti sanno che il personaggio della principessa Leila è molto forte un personaggio di lideranza e tutto quanto quindi sarebbe stato molto bello comunque faccio alcuni faccio alcuni esempi che hanno messo sulla pagina però non non commenterò tutti quanti hanno citato Lily Gruber Michela Murgia hanno citato Mischetta questa è carina ah sì la Murgia anche è molto brava però io mi sentirei un pezzettino intimidita forse perché lei è infatti forse non siamo ancora pronti aspettiamo che ci invite lei al suo podcast forse non siamo a quelli belli di ragazzi grazie della fiducia infatti veramente poi vabbè tanti hanno citato anche Giulia Blasi che infatti la seguo da molto tempo poi anche tanti hanno citato le ragazze della pagina Belle di Faccia brave che è una che è la pagina che abbiamo già citato anche diverse volte Laliti Zettro Samantha Cristoforetti diversi altri nomi sono tanti che avete citato sì ci proveremo ragazzi se poi non ci cagano voi dovete andare lì a fare un po' di pressing perché vediamo l'ultimo nome che vorrei citare è di Deborah Feldman che è l'autrice del libro che ha poi ha ispirato la serie nuova di Netflix Unorthodox che è sulla sua storia di una ragazza che viveva in una società new yorkese ebraica molto ortodoxa molto tradizionalista e che è scappata di quella realtà e secondo me sarebbe interessante per il nostro podcast giustamente per la cosa che ho detto prima noi vediamo il patriarcato molto con i nostri occhi ovviamente che siamo bianche viviamo in una società del primo mondo viviamo dentro questo microcosmo e ovviamente è molto molto limitato esatto è molto limitato il patriarcato ci colpisce in un modo e sicuramente altre donne in altri posti loro vengono compite in un altro modo capito quindi capire anche la visione di una donna che è nata e cresciuta in una società così chiusa e che veramente se guardate la miniserie su Netflix che tra l'altro è bellissima Unorthodox vedi che le donne veramente sono trattate come macchine da fare bambini veramente tutti diciamo veramente succede ancora sì ma c'è anche il documentario quello One of Us sempre su Netflix sulla stessa tematica mi sa che hanno lanciato insieme Unorthodox non ho ancora guardato e voglio vedere ho visto il documentario io sono rimasta molto scioccata perché avevo un'immagine dall'esterno cioè li consideravo strani perché si vistevano in tale modo eccetera sapevano che erano ortodossi ma non immaginavo il livello di controllo sulla vita delle persone sì sono rimasta molto colpita principalmente verso le donne sì sì non hanno accesso a niente a internet a educazione a educazione veramente fan vedere che anche le persone che provano a uscire da quel sistema non riescono ad entrare nella nostra società occidentale perché non hanno il minimo di studio di basi sì non sanno come stare nel mondo proprio sì non riescono nemmeno a trovare un lavoro di niente perché non hanno studio non sanno fare calcoli basici non sanno niente e per le donne ovviamente è sempre peggio che è incredibile eh sì la bambolina la vinciamo sempre noi ma male per gli uomini sì per le donne peggio no comunque questo punto che hai toccato adesso veramente allora mi verrebbe da dire un sacco di gente un sacco di persone che siano diverse da noi perché sai una cosa che tante volte quando pensiamo nelle tematiche della nostra del podcast come affrontare certe tematiche eccetera io mi sento sempre un po' cauce ma parliamo comunque da questo punto di vista di donne etero bianche cioè è comunque sempre un un raccontare la nostra piccola bolle il nostro piccolo vissuto quando invece ci sono veramente altri diversi altri punti di vista che però non possiamo parlare noi per queste altre persone perché non è il nostro vissuto non è non è il nostro luogo di non è il nostro luogo di parlare perché non ci riguarda quindi speriamo di fra poco riuscire ad invitare qualcuno per venire a parlare di altro che non sia di noi stesse magari secondo me non è facile già tante donne non capiscono nemmeno di subire queste problematiche del patriacato il passo ancora in là è capire dove siamo noi nel senso di avere la consapevolezza che sì siamo in una situazione di merda ma ci sono tante donne che hanno purtroppo una situazione peggiore e ci sono delle donne in situazioni migliori di noi è difficile di inquadrarci dove siamo e quanti i nostri problemi sì sono importanti ma cazzo ci sono donne che non hanno nemmeno i diritti basici sì sicuramente aprirsi almeno ad ascoltare le storie delle altre persone e cercare anche di informarsi e ascoltare le voci che siano diverse dalle tue cioè che è una cosa che è un esercizio che io faccio molto spesso no di seguire comunque che ne so account Instagram di donne che sono diverse da me cioè dalla donna in India cioè piuttosto che persone diverse da me in modo ad ascoltare un altro racconto cioè di capire che comunque ci sono realtà diverse dalle nostre perché è troppo facile anche chiudersi nelle proprie nelle proprie realtà che abbiamo già ovviamente tutti e quanti i nostri piccoli problemi di tutti i giorni però sempre sapere che ci sono anche altri modi di vivere altri problemi ci fa anche capire che siamo tutti alla fine siamo tutti più o meno nella stessa situazione con i propri i propri vissuti basta secondo me secondo me stiamo parlando tipo da una vita non faremo gli altri blocchi perché ovviamente questo è stato uno speciale ma per mancanza di consigli almeno guardate la mia serie An Anterdok su Netflix che è molto interessante leggete Harry Potter ci vediamo nella prossima puntata ragazzi ricordate di seguirci su Instagram chiocciola cara sei maschilista su Facebook chiocciola cara sei maschilista siamo anche su YouTube cara sei maschilista sì e mandateci una mail su cara sei maschilista chiocciola gmail.com e sì dai vai buona quarantana a tutti ci vediamo alla prossima puntata baci ciao 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 ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo ma sia un segno di coraggio quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista grazie a tutti